È un castello in forma quello che si presenta a Ponte San Giovanni. Reduci da 11 risultati utili consecutivi, i tifernati, complici anche la caduta di sabato del Tavernelle, hanno l'occasione di accorciare ulteriormente in testa alla classifica, dove al momento si trova proprio la Ponte Vecchio, impegnata ancora nel testa-testa col Ventinella. Non c'è tempo nemmeno di sincronizzare il cronometro sul fischio d'inizio del direttore di gara Reali di Foligno, che una giocata di piedi imprecisa di Bagnetti causa questa situazione di pericolo in area punteggiana, dove che Caglini atterra Michel Salis. È rigore dopo appena 30 secondi di gioco, ma Bagnetti si riscatta rispingendo dal dischetto il penalty cacciato dallo stesso Salis. Occasone d'oro dunque per il castello, schierato da Nella Monica con un 3-5-2 che vede Palazzoli tre pali, Ascione, Panfili e Campagna in difesa, nel cuore della mediana Dini, Gange ed Orecchiuto, larghi sulle fasce German e Yuri Salis, ed in attacco Oxas e Michel Salis. La botta d'adrenalina ricevuto in avvio rende le squadre subito più impanti e veraci. I ritmi sono alti, ma quel che vediamo più vicino ad un'occasione da rete per gran parte del primo tempo è questo tiro di Michel Salis al 19esimo. Nell'equilibrio generale il castello però appare più efficace quando può andare in verticale e la Ponte Vecchio, in campo con Bagnetti tre pali, Pericolini, Costantini e Battaglini in difesa, Anselmi, Cipriani, Battistelli, Yelpo e Vinciarelli nel centrocampo a 5, ed infine De Pretis e Passeri a formare la coppia d'attacco, fatica a trovare soluzioni interessanti. E da certificare la supremazia attuale degli ospiti è quel che accade tra il 28esimo e il 29esimo. Michael Salis, partito sul filo del fuorigioco su un millimetrico cambio gioco di campagni, impenna Bagnetti dopo un'agile serpentina. E sugli sviluppi dell'azione è ancora Bagnetti costretto al volo sul destro da fuori di Orecchiuto. La punizione alta di De Pretis alla mezz'ora ed il gol giustamente annullato sempre al numero 9 per fuorigioco al 32esimo sono i primi timidi segni della reazione della Ponte Vecchio, che al 34esimo si vede privata di un tiro ravvicinato a botta sicura da un monumentale intervento di campagni su un Vinciarelli lanciato a rete. Quando può andare in profondità però il castello continua a far paura e buon per il rosso-verdi che Oxa, dopo aver vinto il duello fisico con Costantini, non chiuda bene il diagonale. Il numero 9 bianco-rosso nella circostanza sente un dolore che lo costringe ad abbandonare la contesa. Al suo posto il laterale Rocchini con German avanzato in avanti a far coppia con Michael Salis. Situazione che si ripeta al 40esimo con i rosso-verdi che si salvano in angolo sfiorando l'autorete ed è ancora in un contesto di infilata che la Ponte Vecchio rimane in 10 al 42esimo con Pericolini che si guadagna il secondo giallo. Nella ripresa, complice l'inferiorità numerica, Caldarelli ridisegna la squadra mettendosi a 4 dietro con Yelpo a terzino-sinistro lasciando De Pretis come unica punta, ma è sempre il castello a rendersi pericoloso. Al terzo con Michael Salis. Nell'occasione un plauso va fatto al direttore di gala reali che, nonostante la chiamata di offside del secondo assistente Lombardi, fa continuare l'azione essendosi accorto che la palla al Tifernate era arrivata da un tocco di un avversario. Lo stesso Reali al diciottesimo sente un lieve dolore all'altezza del polpaccio, che però non gli impedisce di continuare il suo lavoro. Quest'episodio, unito alla girandola dei cambi ed è una propensione più alta alla contestazione da entrambe le squadre, fa sì che nella ripresa i ritmi di gioco siano molto più spezzettati rispetto alla prima frazione. A Giovarne sono sicuramente i ponteggiani, costretti dalle circostanze ad operare di rimessa. Concetto ribadito anche dei cambi. Quando Nella Monica inserisce uno abile negli inserimenti come Calderini, Caldarelli risponde con la solidità e l'esperienza di Cecchini. Ma quel che il tecnico locale non può prevedere è che, dopo una ripresa tatticamente ben condotta, i suoi possano subire un'infilata su modello di quelle della prima frazione. Michael Salis anticipa Bagnetti e si invola ad inzaccare a porta vuota. È il ventisettesimo. Due giri di lancette e Germant mette a frutto la cavalcata sulla sinistra di Yuri Salis e segna con un pregevole tocco. L'1-2 Tifernate è la pietra tombare sul match. Prova di forza dunque del castello. In casa della capolista, la corsa al primo posto, ha ufficialmente un'altra pretendente. Col tecnico della Ponte Vecchio, Caldarelli, partita difficile e si sapeva, contro una squadra informissima, e si sapeva, secondo me il vostro più grande rimpianto è dopo un primo tempo in grande difficoltà aver preso gol nel momento in cui sembrava, nonostante l'inferiorità numerica, che avevate trovato un certo equilibrio tattico. Stavate soffrendo di meno, paradossalmente, rispetto al primo tempo. Sì, diciamo che la chiave di lettore della partita è semplice, nel senso che abbiamo fatto un errore al primo minuto grossolano, che per fortuna ci siamo salvati, ma ha forse condizionato un po' una linea difensiva rattoppata, con tanti giovani in campo. Poi sapevamo che il Castello, insomma, sui tre d'attacco sono velocissimi e quindi potevano metterci in difficoltà. Era un rischio calcolato, tra virgolette. Abbiamo, secondo me, fatto un primo tempo un po' sottotono, però abbiamo avuto, è vero, il Castello ha avuto delle occasioni per passare in vantaggio, ce ne abbiamo avute anche noi due importanti. Col tecnico del Castello, FC della Monica, se questo poteva dirsi un esame di laurea, credo che è stato passato a pieni voti, non solo per il risultato, ma anche per la prestazione, il giro ne ha, ufficialmente, se ce ne fosse bisogno di dirlo, un'altra pretendente per il titolo. Noi ci proviamo, anche se siamo consapevoli che ci sono realtà sicuramente un po' più avanti ad oggi, Ponte Vecchio, Ventinella e Pierantonio. Però, ecco, noi, come abbiamo detto fin dall'inizio, puntiamo a fare un campionato importante, poi, ecco, strada facendo, vediamo un attimino dove ci troveremo da qui ad aprile per poi giocarci anche le nostre carte.